A Pianello, 23 volontari della Croce Rossa hanno ricevuto un riconoscimento del tutto particolare. Si chiama, bene Merenza, il tempo della gentilezza. È stata tributata a quei volontari che nei mesi bui della pandemia non hanno mai retrocesso dal loro impegno. Nonostante il periodo di grande incertezza e paura, hanno cioè continuato a fare ciò che sapevano meglio fare, cioè aiutare il prossimo. Hanno distribuito farmaci, borse alimentari, mascherine, hanno continuato a prestare servizio quando tutto consigliava loro di lasciar perdere. Per questo in piazza Umberto I durante la festa della Croce Rossa di Pianello sono stati omaggiati pubblicamente. Abbiamo fatto questa manifestazione per i nostri volontari che ci hanno aiutato per il Covid. Ringrazio tutti, quelli che sono venuti, anche lei che è di piacenza, sono venuti per la nostra festa. Ringrazio e speriamo che vada avanti ancora così. I volontari di Pianello sono fondamentali per tutto il comprensorio valtidonese. Sono una risorsa davvero preziosa perché gettono il cuore oltre l'ostacolo. Tra le mille difficoltà continuano ad indossare con orgoglio la loro divisa e questa sera riceveranno l'attestato di merito che ha testimonianza del fatto che comunque hanno davvero capito qual è il vero valore della nostra divisa. A settembre partirà un nuovo corso di formazione. L'appello è rivolto soprattutto ai giovani. È importante che ci siano tanti volontari e che venga proprio anche da parte di alcuni giovani che hanno la volontà di venire e che da settembre incominceranno di nuovo i corsi per diventare volontari della Croce Rossa italiana. E se appunto noi siamo qua ad accoglierli sempre perché Croce Rossa è molto importante per tutta la popolazione.